ciao sono io jaren, se avete appena visto youtube shirt, quella overbroken, tornato, tornato, vabbè grazie mille, per favore seguitemi e fate un like al massimone, basta e volevo fare un video dei palloncini, molto schifosi perchè non ha senso, lo so, però vabbè, lo stoppiamo così lo spieghiamo a tempo, un attimo ecco questi, questo è il compiatore, questi sono i palloncini, non è anti tiger, non sono davanti messi in questa scatolina, eccolo, ho appena comprato dietro, quindi, ok, allora ne faremo uno giallo, che mi piacciono i gialli, allora, quindi lo mettiamo qua, ok, così cioè a me, a me mi piacciono un sacco queste palline, quindi le faremo, sì lo so, ecco per e questa è la mia prima volta a farlo, perchè non so cucirlo, allora, noi spieghiamo tempo, un attimo, ho fatto una pallina ma, esatto, secondo me la devo fare lunga, cioè dopo ci proviamo con la pallina, al massimo in questo modo, non lo so, allora questo qua mi è scompiato ma, sì esatto, un po' più grande, proviamoci, stavolta facciamo arancione, quindi lo mettiamo qua, tra l'altro questi palloncini sono minuscoli, cioè sono normali, però proprio, poi quando le tocche, tipo se hai messo della farina o qualcosa, cioè quando è scoglio, dai così, un uovo di Pasqua, un uovo di cioccolato, allora ci metterò un uovo qua, quindi ora perché mi sono scompiato per sboli, allora proviamoci, la parte più bella, vabbè facciamolo così, la parte più brutta, cucina, dai fermati, mi è sconfiato di nuovo, che carina, forse con il migno lo posso, ho fatto una cosa, ho fatto una cosa, ho fatto una cosa, ho fatto una cosa, mi è stato schifosissimo, si era rotta, quindi ne facciamo una gialla, è rotto, ah no, mi manca un minuto, quindi stop un attimo, dai stop, si, questo qua è strano perché c'è il coso, ora, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta grazie a questo pallino, grazie a questo balloncino, ma proprio una pallina come volevo io, grazie, grazie per il vostro supporto con i balloncini, si, proprio non ho, cioè, i balloncini non è che ci interessano tanto, a me ne interessano tanto, 12.000, ciao ciao!